Ma non ha ancora capito che non può fuggire a un elicopolo. 10-4. Sversaglio, ancora in movimento. Ripeto, in movimento. Centrale. A queste unità, vi hanno informato di un sentimento nella nostra attività. Intervenite. Il supporto aereo ha ancora un buon costasso visivo. Ok, centrale. Ad osso. Centrale, ci prepariamo a fermarlo. C'è l'ho alle spalle. Lo blocco. Centrale, abbiamo dei problemi meccanici. Non resisteremo ancora al lupo. Non scherzo.